Una grande serata di pugilato che ha conquistato i Piacentini. Piazzodomo completamente gremita di appassionati di box per la Boxing Night, la riunione pugilistica organizzata dalla Salus et Virtus Box di Piacenza che ha chiuso ufficialmente la Kermesse dei Viennardi Piacentini 2024 in collaborazione con Black Lemon. All'ombra della cattedrale si sono sfidati otto atleti della Salus contro le trattanti avversari provenienti da palestra e limitorfe dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e perfino dal Trentino, dai biga ai più giovani. Match infuocati vincenti come nel caso dei veterani Andres Passieca e Badredino Ormatallagia, campioni italiani nella loro categoria, e per i sorprendenti esordienti Mahantan Goma al suo primo combattimento e per il quindicenne Alexei Secara. Sconfitto onorevole ai punti invece per Denis Moncaio, Ade Laza, Memo Di Mande e Chiara Agosti, quest'ultima nella specialità della Gym Box. A fare da Dignia Cornice gli interventi dei campioni, a cominciare da Roberta Bonatti, reduce dal suo secondo successo nei professionisti, Albert Portuondo che da Cuba ha trovato la sua seconda casa a Piacenza e Amin Bilal e Aurora Vesani che combatteranno per riaffermarsi a livello nazionale e portare in alto il nome della Salus.